Sono 310 nuovi casi di covid in Abruzzo e quanto emerge dall'analisi di 9.464 test, tra antigenici e molecolari, per un tasso di positività complessivo del 3,3%. Il più giovane tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 95. Quella dell'Aquila è anche oggi la provincia più colpita, dove si registrano 107 nuovi casi. A seguire il Terramano, con 99 nuovi casi, il Chietino, con 81 casi e il Pescarese, con 42 casi. Due dei contagiati invece provengono da fuori regione. Il bilancio dei pazienti deceduti sale oggi di 15 unità. Del totale odierno, 6 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Considerando anche i 459 guariti delle ultime ore, attualmente in Abruzzo i positivi accertati sono 10.487, 164 in meno rispetto a ieri. Ancora in leggero calo il numero dei ricoverati. In area medica i pazienti sono 621, 14 in meno rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive i ricoverati sono 79, 3 in meno rispetto a ieri, ma con 3 nuovi ingressi.